Ricordate Elisa di Rivombrosa? La storica fiction italiana è pronta a tornare in televisione con una nuova stagione, confermata l'attrice Vittoria Puccini, ma niente da fare per il ritorno di Alessandro Preziosi. Ciao, sono Valerio Novara. Elisa di Rivombrosa è uno dei più grandi successi italiani in televisione fra il 2003 e il 2005, una fiction che ha rappresentato uno spartiacque fra i drama in costume che avevamo visto precedentemente all'anno 2000 e quelli che poi sono venuti dopo con le nuove piattaforme in streaming, abbiamo visto Bridgerton, ma anche tanti altri che hanno preso, diciamo, l'eredità di Elisa di Rivombrosa e di fiction di questo tipo. In questo video vi daremo succulente anticipazioni per quel che riguarda il ritorno in tv di una delle serie tv più amate della storia italiana. Dopo quasi vent'anni di silenzio la fiction è pronta a tornare in tv, stavolta sulla Rai perché era andata in onda su Mediaset come ben ricorderete negli anni 2000 con 12 nuove puntate. Secondo le prime indiscrezioni nel cast comparirebbe comunque Vittoria Puccini, la protagonista assoluta della prima Elisa di Rivombrosa insieme ad Alessandro Preziosi. Le new entry del cast sarebbero Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Ludovica Nasti, Andrea Arcangeli e Jacopo Olmo Antinori. Non sembrano esserci troppe speranze per il ritorno di Alessandro Preziosi che ricordiamo il personaggio interpretato da Preziosi è morto alla fine della prima stagione quindi non avrebbe molto senso un suo ritorno tranne che per dei flashback se volessero farlo vedere in alcuni flashback i ricordi dei protagonisti. Alla finestra ci sarebbero le nuove piattaforme streaming come Amazon e Netflix ma in ogni caso ci sarà un cambio di emittente televisiva dato che comunque la prima volta la fiction era andata in onda su Canale 5 ma adesso sembrerebbe la Rai la principale indiziata per trasmettere la nuova stagione, la terza di Elisa di Rivombrosa a partire dall'anno prossimo. La nuova stagione non sarà il seguito di Elisa di Rivombrosa 2 ma sarà il continuo dello spin-off La figlia di Elisa, ritorno a Rivombrosa e non riscosse particolare successo e che andò in onda nel 2007. Secondo quanto riportato da Torino Cronaca le location scelte per la nuova serie oltre al Castello Ducale di Aglie sono il Castello di Masino a Caravino, il Castello del Valentino e la Villa della Regina a Torino, le Cascade di Montegelato a Roma, il Borgo di Castello di Rota a Tolfa, Villa Parisi a Monteporsio Catone, il Castello Pallavicino a Barano de Melegari, il Castello di Golaso a Barsi e la Rocca a Meli, Lupi di Soragna. Ma facciamo un passo indietro, come era finita la seconda stagione di Elisa di Rivombrosa? Rapita da Victor Benac, Elisa viene liberata da Cristiano, i due possono finalmente godersi la loro storia d'amore, ma la terza stagione di Elisa di Rivombrosa, come già anticipato, è possibile che non ripartirà dalle ceneri della celebre fiction, ma piuttosto da quelle dello spin-off del 2007. In quel caso la storia seguiva le vicende di Agnese Ristori, la figlia dei due storici protagonisti Elisa Scalzi di Rivombrosa e Fabrizio Ristori. Insieme ad Agnese nel Piemonte di fine 1700 c'era anche il fratello Martino Ristori. Ma è davvero una buona idea fare una nuova serie di Elisa di Rivombrosa? Voglio sapere voi cosa ne pensate, scrivetemelo nei commenti se siete d'accordo con la scelta di riportare sullo schermo una serie in costume che fece tanto successo negli anni 2000 ma che adesso potrebbe essere un po' obsoleta. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è a creazione, seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni parliamo di cinema e serie tv. Al prossimo video!